45 ACP tiro dinamico palla 230 grani vado ad eseguire 15 ACP tiro dinamico palla andiamo a vedere ora i risultati 45 ACP è una palla molto potente la carica a fattore 175 è praticamente devastante i risultati sono tutti tranne uno in doppia alfa per abbattuto la performance mi sembra ben riuscita la distanza dalla quale è stata effettuata la performance la distanza è di circa 15 metri, 10 metri, 9 metri alla prossima performance